Prego consigliere per tre minuti nella facoltà. Allora io volevo riportare un po' di chiarezza nel dibattito che purtroppo vedo che strumentalmente viene deviato su altre vicende altrettanto importanti. Però l'appello che faccio a tutte le forze politiche presenti è proprio quello di rimanere concentrati sul tema, cioè quello dei piani di zona. Chi sta in Commissione urbanistica sa benissimo quanti sono i piani di zona, sa benissimo quanti cittadini sono stati coinvolti e come avremmo potuto gestire tutte le problematiche nei piani di zona di Roma, nella Commissione urbanistica, senza distogliere l'attenzione da un tema così importante. Questo è il punto vero e proprio. La consistenza del problema dei piani di zona è sotto gli occhi di tutti. La gravità della situazione, che purtroppo non ci vogliamo ripetere, ma qualcuno ha provocato, non si può risolvere con una Commissione ogni tanto. Ci deve essere un gruppo di lavoro, di consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che prende la vicenda in mano e la gestisce adeguatamente. Qui stiamo parlando di decine, se non centinaia di migliaia di cittadini romani, spesso truffati. E allora perché continuiamo a spostare l'attenzione su cose che non servono alla cittadinanza? È chiaro, qui ci sono altri cittadini, ma perché non dobbiamo ascoltare questi che sono stati truffati da decine di anni? Chi sta nelle periferie di Roma lo sa bene quello che è successo. E non mi voglio neanche dilungare, riportiamo la discussione sul tema vero e istituiamo all'istante questa Commissione d'indagine. Grazie.